quinto giorno a new york ci prepariamo per andare in cilio di nuovo come tutte le mattine prepariamo la pappa vedo ardo bottine l'olio portato da casa ci abbiamo anche il parmigiano parmigiano del lattare mettiamo tutto qua dentro e se lo mangia c'è il caffè per noi come chi è è ulc sì ma rimettilo ale che stiamo andando via come esce mamma andiamo via eduardo l'ambulanza ale dove stiamo andando guarda che c'è dove stiamo andando in questo quinto giorno a new york central park so vediamo un po oggi è una bellissima giornata si sta bene non tira vento non c'è una nuvola e dio dalla nostra parte anche oggi e ale che hai visto prima nella vetrina spider man tutto ok che c'hai il torcicollo adrizzate vai eccoci arrivati a central park mo ci inoltriamo dentro c'è mia moglie nella metropolitana abbiamo incontrato luci liu luci liu è stata molto carina e gentile ci ha aiutato con i bambini io chiesto una foto e si rifiuta di farcela di farsela con noi e sarà carina e ci inoltriamo nel parco vai vieni scendi scendi vieni sono c'è che vuoi correre dentro la fontana? eh? corri ecco esci esci sta arrivando l'acqua corri ti bagni ti bagni ti bagni ma non è vero eh? non è vero, guarda papo lo facciamo dove andiamo? non ci siamo persi non stai Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Siamo al museo internazionale, come sei? Che museo siamo? Museo di Storia Naturale. Di Storia Naturale. Di Storia Naturale. Toto che non dormi. Dormi, Toto. C'è più gente di sera che di giorno. Dove stiamo andando? A vedere... A vedere tutta la città dall'alto, dai, grazie a cielo. Alla giù che c'è, se si leva l'auto, più se si vede, è un paio. Eccolo qua. Stiamo salendo fino al cielo. Eccoci arrivati. Eccoci qua. Questo è un video da fare. Oddio, fa tirare il vento perché vuole il cellulare. Perfetto. Alla giù che c'è, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Finito Allora i bambini si sono addormentati Come sta la tua esperienza qui all'Oxfeller Center? Come sta l'esperienza? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Allora i bambini si sono addormentati